Quando gli uomini ritornano dopo che una relazione è finita e magari ritornano a cercarti spontaneamente? Beh, la situazione è abbastanza semplice e definita. Gli uomini ritornano se erano stati veramente innamorati, veramente coinvolti con te. E allora, se questo è, e se non si è creata rabbia, rancore e risentimento, per cui, diciamo, perché la rabbia e il rancore e il risentimento, per così dire, cannibalizzano l'amore. Cioè, se io ho 50 di amore e metto 50 di rabbia, uno va a mangiarsi l'altro e arrivano a zero, praticamente. Quindi si arriva all'indifferenza, tutto sommato. Quindi, se l'amore ha segno più, rabbia ha segno meno, entrambi si cannibalizzano. Quindi, se l'amore che ha avuto per te, se c'è stato amore e se non è stato cannibalizzato da rabbia, che magari è venuta fuori alla fine, perché magari vi siete lasciati in un modo non tanto buono, allora ritornerà. Quando è che ritornerà? Quando vivrà una situazione, diciamo, di carenza affettiva. Per dire, se ti ha lasciato perché ha avuto un'altra storia o qualche cosa del genere, insomma, devi lasciare che naturalmente questa situazione decada. Decadendo naturalmente questa infatuazione, questa cosa, se c'era realmente amore e pathos verso di te, questo non va perso. Ecco, il messaggio è, non è che l'amore finisce, si perde e sparisce. Potrebbe ridursi semplicemente se è subentrata della rabbia successivamente. Ovviamente nel frattempo non devi diventare pesante, non devi inseguire, non devi spingere, perché se diventi pesante e ogni giorno inizi a martellarlo, se rabbia non ne aveva, la rabbia gli viene. Quindi si tratta in questi casi semplicemente di aspettare, eventualmente mandare qualche abboccamento dopo che è passato un po' di tempo. Poi ovviamente dipende se a te questa persona interessa ancora o se invece hai trovato altro, hai costruito una vita in modo diversa. Se hai costruito una vita o qualcosa che non ti interessa più, comunque potresti avere sempre, diciamo, la soddisfazione di vederlo tornare. L'importante è mantenere in questi casi il controllo emotivo, mantenere il sangue freddo, perché se ti lasci prendere dalle emozioni, se ti lasci prendere dal tuo bisogno di avere questa persona, allora puoi stare certo che in questo caso qua non tornerà. Nel momento in cui riesci a sciogliere il bisogno, allora le probabilità che torni in modo spontaneo sembra strano ma aumenteranno drasticamente, proprio perché a livello energetico ti predisporrai ad attrarlo nuovamente. Bene, per questo video è tutto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale e seguimi sul blog seduzionevip.com. Ciao!